Benvenuti all'appuntamento con Art Impresa. In questa puntata vi presenteremo i due eventi che hanno chiuso gli appuntamenti con Scuola Artigiana e Scuola per Genitori. Si chiude il ciclo della Scuola per Genitori insieme per crescere con soddisfazione e una chiusura con Maria Rita Parsi. Il gioco. Il gioco insieme naturalmente anche all'impresa, no? Sì, perché il gioco è il modo che hanno i bambini per poter sperimentare, per potersi confrontare fra di loro, con gli altri e anche con le loro fantasie e quindi per imparare a stare bene in compagnia e anche con se stessi e quindi per poter magari essere dei buoni imprenditori del futuro. Abbiamo dentro delle energie che abbiamo bisogno di manifestare fuori e abbiamo anche dell'aggressività, dell'aggregior nel senso di andare avanti, oltre che distruttività. Abbiamo bisogno di costruire e distruggere. Per il bambino costruire e distruggere è un'esperienza importante. Elimino e poi ricostruisco, elimino e ricostruisco, cioè si rifà continuamente. Allora, questo tipo di gioco è molto importante contenendolo ovviamente. L'adulto deve dare delle norme, deve dare delle regole, deve mettere in condizione il bambino. Anzitutto certi giochi violenti che poi sono passati alla disattenzione dei genitori, sono giochi che, anzitutto fatti per adulti e che intenderebbero canalizzare in questo gioco tutta l'aggressività che un adulto può avere e che non può spendere assolutamente fuori. Più che aggressività, distruttività. Sono giochi, il GTA per esempio, l'abbiamo penalizzato tantissimo, che è un gioco con macchine, con uccisioni, con utilizzo di figure femminili che poi vengono aggredite, vengono calpestate, bruciate, cioè una roba da Isis. Ecco, giochi di questo genere avrebbero la funzione, dicono quelli che l'hanno fatti, di canalizzare un'energia negativa che invece di diventare qualcosa che esce fuori, poi viene tutta giocata, scaricata in questo gioco. Bene, io sostengo che questi giochi sono assolutamente da rifiutare, che non sono quelli che permettono ai bambini di esprimere l'aggressività. I bambini e anche ai 18 anni che i giochi violenti non vanno assolutamente assecondati, vanno guardati, vanno dati dei giochi didattici, cioè costruiti in modo tale che il bambino riesca a fare delle cose, per esempio a dare anima dei personaggi, a vestirli, a dire come si devono comportare, a organizzare una fattoria, a trovare degli animali, a costruire delle case, a fare qualcosa che permetta di partire da una situazione di difficoltà e andare verso una situazione di liberazione, di cambiamento, ma mai attraverso delle forme violente. Perché? Perché alla violenza, certi tipi di violenza che poi viene recuperata dai ragazzini, ahimè, come spugne anche dai mezzi di comunicazione di massa, perché quello che vediamo continuamente, l'ISIS, quelli che sgozzano, bruciati i vivi, le parole, le notizie, man mano che il bambino cresce capisce. Allora tutta questa immondizia proprio, tutta questa spazzatura virtuale diventa un gioco violento e attraverso quel gioco violento questa spazzatura viene riciclata. Io dico che si abbassa il livello di valutazione della violenza e quindi non vanno accettati questi giochi, vanno rifiutati e vanno sostituiti e vanno richiesti dei giochi altamente costruttivi dove un bambino può, un bambino, un preadolescente, un adolescente può salvare delle situazioni, può cambiare delle condizioni, può disinnescare dei pericoli, può affrontare delle difficoltà, può superare delle prove, un po' come nelle fiabe dove si parte da una situazione spesso orrorifica e si arriva invece a una soluzione finale trovando degli alleati, trovando, ecco questo io credo sia il gioco più adatto. Dico ai genitori, dico agli insegnanti, imparate a raccontare, fate racconti e fate fare racconti ai bambini, utilizzate il mondo virtuale per tutti quei racconti virtuali che insegnano ai bambini a partire dalle difficoltà, ad affrontarle e a superarle. Ecco io credo che questo sia di fondamentale importanza, è una maniera di costruire anche tenendo conto dell'elemento di distruttività che c'è in ciascuno di noi. Scuola Lavoro è un progetto che sta crescendo in maniera esponenziale, sicuramente lo dicono gli stessi numeri, oltre 2000 studenti coinvolti, 17 plessi scolastici, 50 insegnanti, 50 artigiani di cui 8 maestri artigiani. Quindi un evento e una tradizione che sta diventando appunto tradizione per il nostro territorio e che vede veramente questo coinvolgimento tra mondo del lavoro e scuola. Un coinvolgimento fondamentale perché bisogna imparare da ragazzi a lavorare con le mani e con la testa. È il nostro mondo artigiano che ci ha insegnato da sempre questo, una tradizione di lavoro, una tradizione di amore, di saper fare e di voglia di fare e questo credo che sono quei valori che oggi nella nostra società serve poter tramandare. Noi abbiamo trovato il sistema per poterlo fare nel nostro territorio, sicuramente. E i protagonisti insieme ai ragazzi sono i maestri artigiani, quelli che hanno un bagaglio di esperienza così grande da poterlo trasferire alle nuove generazioni. Sì, è stata una bella invenzione, questo negli ultimi due anni abbiamo fatto centinaia e centinaia di maestri artigiani in tutta Italia con degli ottimi risultati, c'è la massima volontà da parte loro di essere a disposizione innanzitutto dei ragazzi giovani ma di chiunque ne richieda il proprio intervento è sicuramente una cosa importante. Ma mi lasci dire i complimenti che devo fare al Presidente di Arezzo, al Presidente dell'ANAP di Arezzo ma soprattutto alla confartigianato di Arezzo nel suo insieme perché è veramente una delle poche, è stata la prima e sta facendo dei grossi risultati, è stata la prima a partire con questa iniziativa, con i ragazzi e sto cercando quando nel mio girare continuo un po' per tutta l'Italia di trasmettere anche alle altre province questa iniziativa di Arezzo. Purtroppo non tutti hanno questa sensibilità pur consapevoli che se non si parte dai bambini poi alla fine i risultati non verranno e se non vengono risultati vuol dire che gli artigiani saranno sempre meno, al di là che stanno calando purtroppo in modo molto esponenziale visto all'andamento della crisi che non ci sta mollando nel modo più assoluto e dal punto di vista dell'anziano cerchiamo di fare tutto quello di trasmettere ai nostri figli e soprattutto ai nostri nipoti quelli che sono i nostri valori che ci hanno sempre contraddistinto all'interno di confartigianato e soprattutto adesso all'interno di confartigianato ANAP. E in tutti questi anni Banca Valdiciano è sempre stata accanto a confartigianato? È vero, non la nostra collaborazione con confartigianato Impresa Arezzo è sempre stata fin dal 2007 quando siamo venuti ad Arezzo. Quest'anno in modo particolare ci hanno presentato questo progetto e noi puntiamo molto ai giovani e pertanto abbiamo aderito e abbiamo con piacere anche sostenuto questa iniziativa. Oggi siamo alla fase finale, alle premiazioni, pertanto vuol dire che il progetto è riuscito e noi siamo felici di avere contribuito con il nostro piccolo a questa attività che guarda avanti, guarda i giovani e è una cosa sicuramente oggi importante perché il mondo degli artigiani è quello che sta sostenendo la nostra economia. Si dice spesso e ha ragione che il rapporto tra il mondo della scuola e il mondo del lavoro è un rapporto del quale i due protagonisti spesso non si guardano. Ecco, confartigianato ha trovato il modo di far dialogare questi mondi. Sì, in effetti è proprio così. Molto spesso il mondo della scuola è distante al mondo del lavoro creando tutto quello che ne consegue a livello sociale. Effettivamente si sta parlando di molta disoccupazione. L'obiettivo di confartigianato con questa iniziativa che personalmente ritengo molto interessante è quella di illustrare ragazzi e avvicinarli realmente al mondo del lavoro e anche a delle professioni che in realtà possono offrirgli loro dei reali sbocchi nel mondo del lavoro. Questo non vuol dire di non studiare, vuol dire anche di avere una percezione diversa di quello che è anche in termini di possibilità di affacciarsi realmente al mondo del lavoro. Scuola artigiana, questo progetto è un progetto personalmente ritenuto il più importante, vorrei dire. Basti pensare che quest'anno ha intercettato in questa edizione oltre 2.000 ragazzi divisi in circa 20 scuole e 17 istituti coinvolgendo oltre 50 artigiani tra cui anche alcuni maestri. Questo è un bel messaggio perché in tutti gli anni è stato un divenire sempre maggiore, quindi come interesse. E tuttora altri istituti vedendo appunto l'evolversi della situazione stanno dando disponibilità già per i prossimi anni. Colgo l'occasione per ringraziare veramente tutti, quindi la Banca della Valdichiana, ringraziare Ancos e Anap ovviamente, Confartigianato stessa, gli istituti, i ragazzi e un ringraziamento particolare e personale agli artigiani. Questa è la dimostrazione che gli artigiani non invecchiano mai, o meglio invecchiano ma rimangono sempre artigiani. L'artigiano non va mai in pensione, come dice il nostro motto. D'altronde ce n'è bisogno dell'intervento degli artigiani, perché io sto girando la provincia per preparare un libro per i 70 anni della Confartigianato e molte aziende, molti artigiani e anziani si lamentano della mancanza di gente che sappia fare. Quindi credo che questa è una manifestazione che serva proprio per far capire ai ragazzi l'importanza di imparare un mestiere che può anche essere il loro futuro. Devono studiare perché studiare è importante e credo che un conto è, come dico sempre, un conto è fare l'artigiano come si faceva una volta con la quinta elementare, o neanche quella, è un conto è fare l'artigiano con un titolo di studio o con una conoscenza, con una cultura che sia all'altezza dei tempi in cui viviamo.